Quando avete provato a cucinare i polipetti, risultavano sempre un po' duri o troppo gommosi? Anch'io non ero troppo entusiasta a cucinarli e in pescheria non sapevo cosa consigliare quando mi chiedevano come prepararli. Finché una cliente non mi ha suggerito il metodo. Andiamo a prepararli per una semplice insalata tiepida e vi svelo il trucco perché rimangano morbidi. Vediamo gli ingredienti. Per questa ricetta per due porzioni ci servono un chilo di polipetti decongelati già puliti, dell'olio extravergine d'oliva, acqua o vino bianco, aglio e prezzemolo. Iniziamo! In una padella su fuoco medio mettiamo due cucchiai di olio extravergine d'oliva e versiamo i polipetti. Aspettiamo che i polipetti rilascino la propria acqua in cui si cuoceranno. A proposito, nel video dell'insalata di polipo abbiamo annoverato il famoso detto che il polipo si deve cuocere nella propria acqua. Quando arrivano a debollizione abbassiamo la fiamma e li cuociamo coperti per 45 minuti fino ad un'ora e anche più, controllando che il liquido non si asciughi troppo. All'occorrenza aggiungiamo dell'acqua o se preferite del vino bianco. Spolverizziamo con del prezzemolo e se vi piace anche con dell'aglio tritato. Ancora un filo d'olio. E niente sale perché i polipetti risulteranno salati di per sé. E mescoliamo bene. Se vi piace questo video mettete un mi piace, condividete, iscrivetevi al canale e fate qualche commento. Ed ecco servita la nostra insalata tiepida di polipetti. Assaggiamo! Stupendi! Buon appetito e arrivederci alla prossima ricetta!